Proelab nasce nel 2015 dall'incontro con un gruppo di ingegneri operanti da 25 anni nel campo della ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di strumenti musicali. Proelab ha individuato, nello sviluppo del progetto HD3FLAB finanziato dalla Regione Marche, un'azione mirata al miglioramento dell'assistenza tecnica e post vendita mediante l'utilizzo della realtà virtuale e aumentata. La soluzione che abbiamo individuato consente di rendere disponibile via web a tutti i centri di assistenza Proel un manuale 3D interattivo. In questo progetto abbiamo completamente eliminato il supporto cartaceo e lo abbiamo sostituito con un sistema di più semplice utilizzo fruibile anche attraverso i dispositivi mobile. Attraverso l'utilizzo di un marker, gli operatori dell'assistenza tecnica potranno visualizzare gli strumenti musicali in realtà aumentata. L'utilizzo di questa tecnologia li aiuterà ad avere una visione più realistica e dettagliata delle operazioni da eseguire. I manuali digitali verranno utilizzati da Proair Lab in realtà virtuale per l'utilizzo della formazione dei propri centri di assistenza. Grazie a tutti.